Siamo sulla strada che porta da vicino Cappella Reale a Cianfisco. Mi trovo con un noto campione, uno dei più grandi campioni che la storia di Sparanisse abbia potuto esprimere. Il grande è indimenticabile, perché fra poco sarò morto Pasquale Amrì. Ecco, guardate che metallata, che agilità, con la fascia è solo una scusa per far vedere che non sta bene, guardate che uomo, guardate che classe, una classe cristallina, una grande Amrì, ma non ci sarà più, lo riporteremo con questo body, metteremo una lapide in sotto, andate� sovrappone Siti Grazie a tutti. Fa vedere come ti togli i denti, togli di là del tira, togli di là del tira, dai, dai, mi saluta, saluta a tutti, grande Amrino, grande Amrino, mi saluta a tutti, mi aspetta nell'altare, perché nell'alti qua si è stufato, sta dicendo che non vuole vivere più, ha perso attualmente ogni desiderio di vita, va bene, arrivederci a tutti. Grazie, ciao.